ciao ragazzi un saluto a tutto il gruppo ecco io lo far vedere la fiamma del frigo trivalente girata a gas quando siamo libera ogni tanto bisogna provare se tutto funziona tutti i servizi ecco adesso vi faccio vedere la fiamma del frigo eccola qua aspettare che metto a fuoco ecco una bella fiamma blu bella alta tutto funziona bene ecco importante vedere se tutto funziona prima di fare una partenza soprattutto se siamo in libera che non siamo allacciati a nessun tipo di servizio quindi la roulotte deve essere tutta molto efficiente ok quindi fate questi controlli prima della partenza un saluto a tutto il gruppo vi ricordo di iscrivervi sul canale youtube perché in tanti mi seguite sul profilo sul gruppo ma pochi iscriviti vi vanno poi a iscrivere vanno a vedere i video ma non si iscrivono quindi vi ricordo di iscrivervi al canale youtube a tutti ok ciao ragazzi